A volte non puoi allontanarti, boh, vabbè, boh, vediamo. Ma cambiava di un momento. Eh, perché tu non mi hai mai visto. Tu mi hai visto già un pezzo dello stendino, proprio quello stesso. Cioè, lo zaino strappino di spesa. Non mi hai mai visto mai quando vado a fare la spesa e torno con le buste. Quello mi è come il carrollino della mamma. Cioè, ti giuro, sono imbarazzante, ho visto a camminare. Se me se mi ha visto qualcuno mi ha fatto il filmato e sta barrigando. Cioè, tipo, le lanciavo, c'è uno scalino, poi l'altro scalino, così, tipo, mi stavo per ribaltare. Grazie, avete che devo zoomare, i scristalli. Eh, no, ma si può portarmelo su, il corriere non mi ha ammollati giù. Eh, no. Quelle scale strette, strette, in quel palco. Non c'era neanche Marte, capito? Non c'era la sola. Perché la valigia l'abbiamo portata su in due, così. Ma quello, la sola. Ma anche io, con le buste dell'S Lunga, sono sempre cose, sì, sì. No, Sinello. Fissa, io mi porto anche lo zaino, quando va a frenare, lo riempio. Quindi, la schiena, la schiena. Ma se io, la vostra, la sennata. Ah, 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 ah. Eh, ti ricorda, c'è, 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 c'è. C'è, 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 c'è. C'è, c'è. C'è, c'è, c'è. C'è, c'è. C'è, c'è. C'è. C'è 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 C'è